Ciao, la mia buona notizia è che se vuoi cominciare a fare yoga non hai più scuse anche se non vuoi uscire di casa. Online puoi trovare un sacco di lezioni gratuite, fatte da diversi insegnanti con diversi stili e che durano anche in tempi diversi, lezioni da un'ora, lezioni più brevi, in maniera da adattarle alle tue esigenze. Se vuoi sul mio canale YouTube Elisa Francese Yoga Teacher troverai una volta alla settimana una nuova lezione completamente gratuita di un quarto d'ora, venti minuti con argomenti differenti in base a quello di cui hai bisogno, lo vedrai già dal titolo così sai già di che cosa stiamo parlando. Quindi vai, pratica, sperimenta e buon yoga! Grazie a tutti!